Musica Rieccoci con un nuovo appuntamento di Amico Fisco siamo con Lorenzo Stoppa della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate che oggi ci parla in particolare di tutta una serie di novità anche se non strettamente fiscali che avranno grande impatto sulla vita dei cittadini nel 2011 Ciao Lorenzo, grazie di essere con noi Grazie Michela, buonasera ai telespettatori di Telechiara La scorsa settimana abbiamo fatto una panoramica delle principali novità fiscali alcune davvero rivoluzionarie che si realizzeranno nel 2011 e di cui parleremo approfonditamente nelle prossime settimane adesso faremo anche un'altra, proporremo ai nostri telespettatori un'altra panoramica di altre novità importanti che avranno un impatto rilevante sulla vita di milioni di cittadini e di famiglie anche se magari non sono strettamente fiscali si tratta di novità che incidono sui consumatori quindi su tutti noi, sugli automobilisti, sugli extracomunitari sugli studenti, quindi genitori ed insegnanti e cominceremo a esaminarle Allora, cominciamo subito con le novità più interessanti che riguarderanno i consumatori Sì, una è già nota a partire dal primo gennaio sappiamo che tutti i consumatori non dovranno più utilizzare le sportine di plastica non biodegradabili per fare la spesa perché inquinano fortissimamente l'ambiente dovranno essere sostituite o da sacchetti di plastica o comunque da sacchetti di iuto o di altro materiale biodegradabile naturalmente si troveranno ancora nei supermercati fino ad esaurimento delle scorte Altra importante novità di impatto notevole è che dal primo di gennaio è diventata operativa in tutta Italia e quindi riguarda 20 milioni di famiglie italiane la tariffa bioraria dell'energia elettrica quindi di giorno i consumi costano di più e di notte costano di meno la differenza fino al primo gennaio 2012 quindi per tutto quest'anno è di solo il 10% ma poi aumenterà sensibilmente quindi bisognerà prendere mano con questa novità dal primo marzo poi le aziende fornitrici di energia del gas domestico saranno obbligate a farsi pagare i conguagli a rate e non più tutto e subito come adesso all'incontrario sarà la famiglia che riceve la proposta di conguaglio a dire no, io preferisco pagare tutto e subito però ripeto la regola è l'opposto di adesso quindi a rate tutti a meno che non sia il soggetto che decida di pagare per sua esplicita volontà tutto e subito infine ricordiamo che da settembre di quest'anno spariranno dalla circolazione le lampadine ad incandescenza a 60 watt nel settembre dell'anno scorso sono sparite quelle a 75 watt e nel settembre 2009 quelle a 100 watt quindi non si troveranno più fino a disordimento scorte sul mercato e saranno sostituite obbligatoriamente da quella risparmio energetico ecco, altra novità riguarda naturalmente gli studenti e le loro famiglie la prima l'avremo già alla fine di questo ciclo scolastico praticamente a giugno gli studenti che risulteranno assenti per almeno 50 giorni da 50 giorni in su non potranno più essere messi all'anno successivo agli esami in poche parole saranno bocciati perché bisogna rispettare almeno i tre quarti dell'orario scolastico annuale invece la seconda novità l'avremo all'inizio del prossimo ciclo scolastico quello 2011-2012 cioè praticamente a settembre di quest'anno quando il collegio dei docenti sarà obbligato a fornire agli studenti e quindi ai loro genitori un elenco di testi scolastici reperibili in duplice versione in formato cartaceo classico quindi i libri che si vanno a comprare in libreria ma anche in formato digitale quindi scaricabili direttamente dal web quindi dal web agli extracomunitari delle novità anche in questo campo due rivoluzionarie allora dal 9 febbraio entra in vigore ed è in venta obbligatorio per tutti gli extracomunitari che risiedono stabilmente in Italia da almeno 5 anni che quindi chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno che hanno un reddito adeguato e un'abitazione idonea l'obbligo di sottoporsi al test di italiano che sono tre prove scritte condizio sine qua non per ottenere appunto il rinnovo o lo si passa allora si ottiene il rinnovo perché se non lo si passa non si ottiene il rinnovo dal 5 di dicembre di quest'anno poi entrerà in vigore la norma per cui il cittadino comunitario dell'Unione Europea che commette un reatto in un altro paese se viene condannato alla pena detentiva può scontare la pena presso un istituto penitenziario del proprio paese facciamo un esempio un rumeno che commette una rapina in Italia se viene condannato a 5 anni di reclusione potrà scontarla nel proprio paese ma allo stesso tempo un italiano che fa una rapina a mano armata a Lisbona in Portogallo se viene condannato in Portogallo potrà scontare la pena in un carcere italiano e così via altra novità riguarda anche gli automobilisti eh sì allora da mercoledì prossimo 19 gennaio entra in vigore il nuovo articolo 116 del codice della strada che impone anche ai ragazzi di 16 anni di superare obbligatoriamente una prova pratica non quindi un test teorico ma una prova pratica per la guida di ciclomotori e dei minicar delle piccole macchinette invece dal 9 febbraio entra in vigore la norma che obbliga il neopatentato per il primo anno di vita appunto di durata della patente di guidare esclusivamente autovetture di cilindrata pari o inferiore ai 70 kilowatt in poche parole il neopatentato per un anno deve guidare solo utilitarie e infine dal 13 agosto di quest'anno tutti coloro i quali prendono un qualsiasi tipo di patente quindi la A, la B, la C, la D, la RAF o in tutti i casi di rinnovo delle patenti professionali come i tassisti, i camionisti e quant'altro dovranno fornire obbligatoriamente un certificato medico di non uso di droghe e di non abuso di alcol ecco ci sono anche delle novità positive per quanto riguarda i cittadini naturalmente contribuenti sì la prima è che nel corso del 2011 chi smaltisce i rifiuti in acque superficiali o sotterranee beccherà una grossa sanzione da 300 euro a 3.000 euro che raddoppia da 600 euro a 6.000 se queste sostanze sono nocive dal 20 marzo entra in vigore la mediazione civile volontaria e obbligatoria in poche parole se litighiamo per questioni condominali risarcimento dei danni per incidenti automobilistici per questioni legate a successioni e allocazioni dobbiamo ricorrere quindi al mediatore civile e non più al tribunale e per chi sconfina nel proprio conto corrente o va in rosso sul fido che è stato concesso per piccole entità e per pochi giorni non dovrà più subire le commissioni di massimo scoperto e infine debuttano nei bollettini dell'Inps i 3 centesimi all'ora per il datore di lavoro che paga la colf in regola questo cosa serve? per garantire alla colf una diaria giornaliera in caso di ricovero e per garantire al datore di lavoro un'assicurazione della responsabilità civile contro terzi Benissimo Lorenzo, ti ringraziamo magari nelle prossime puntate entreremo nello specifico di queste novità con i tuoi colleghi ricorriamo sempre l'email della trasmissione amicofisco, chiocciolatelechiara.it vi lasciamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre con Amico Fisco grazie dell'attenzione, arrivederci grazie a tutti